Ehi, ma perché non andiamo al cinema? Sì, ma vorrei vedere un film romantico. Certo, i due innamorati sedevano sulla riva di un bel lago scambiandosi dolci parole. Ehi, voi due, la volete smettere? Brutto robò arrugginito, non mi interrompere. Perché mi tratti così male? Scusa, ma in qualche modo dovevo impedirmi di amoreggiare così in mezzo alla strada. Hai rovinato la mia dichiarazione d'amore. Ehi, ma cosa vi prende oggi? Avanti, venite gente, visitate il nostro meraviglioso centro gioco. Non ti sembra la voce di dronio? Già, temo sia lei. E ora attenzione, si apre il sipario. Salve, miei cari fans, perdonatemi se vi ho fatto aspettare. Vi starete chiedendo cosa stiamo facendo. Ebbè, ecco, dobbiamo fare solamente i versanti. Signori, il gioco è semplice. Dovete soltanto tirare qui le palle. Se riuscirete a colpirci, vincerete un grosso premio. Provate. Beh, io ci provo. Ho fatto per molto tempo il lanciatore di una squadra di baseball. Via! 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 Ma cosa è successo? Ai, 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 che male, che male. Lei è un violento. Ha visto che ha fatto a quei due poveri ragazzi. Ma come? Non era un gioco. Che dolore, mi ha distrutto la pancia. Mi scusi tanto, ma ha solo lanciato una pallina. Qualsiasi cosa abbia fatto, lei ha messo fuori uso un uomo. Ah, che male! Oh, è terribile. Questi due ragazzi sono tutta la mia vita. Adesso come farò? Non ho messo il momento, ma sono io a portare il girattino. D'accordo, pago io tutte le spese delle cure per i ragazzi. Davvero? Bene, lei è una persona comprensiva. Dunque, il dottore, le medicine, le lastre, l'ingessatura e il ricovero in clinica, due denti nuovi, in totale 300.000, ecco. Ma sto scherzando? Ah, che dolore, morirai! Ah, sì, oi, oi! Va bene, va bene, ho capito. Però ho l'impressione che mi stiate imbrogliando. La ringraziamo molto, signore. Arrivederci. Avete visto quanti soldi abbiamo guadagnato senza fatica? Ora possiamo anche chiudere. Ne abbiamo abbassata per costruire il nuovo robot. Certo, mi sdrogno, ma deve calcolare che ho bisogno dei soldi per il dentista. Non se ne parla nemmeno. Noi non c'entriamo niente. Il dentista è per te, per cui te lo paghi con i soldi tuoi. Ah, che maniere. Non è giusto, non può essere così tirca. Andiamo. Sì. Eccomi, sdrogno. Questo è il nostro nuovo potente robot. Non è bellino? Bellino. Ha un aspetto molto poco rassicurante. Pensi quello che vuole, ma sappia che nascosta nell'interno c'è un'arma micidiale. Davvero? E perché non me la fai vedere allora? Va bene. Però, esteticamente non è granché, ma ha tutta l'aria di essere efficace. Spero proprio che questa volta le cose vadano per il verso giusto. Siamo pronti. Doc Robain non c'è. Eccomi qui. Sono Doc Robain, il più grande ladro del mondo. Inchinatevi. Come va? Andati senza cervello. Ascoltatevi, scagnozzi miei. Il dottore è certamente nascosto proprio dietro a quella maschera. Ho deciso di sorprenderlo sistemando dei rivelatori nel muro. Vedrete, questa volta scopriremo la sua vera identità. Guardate il segnale. I rivelatori hanno captato qualcosa. Che cosa state borbottando voi laggiù? Assolutamente nulla, dottore. Stavamo semplicemente ascoltando com'è bella la sua voce. Bene, ora vi do le istruzioni. C'è un ragazzo di nome Caltar che abita nel paese della meraviglia. E sa dove si trova la Docros? Ehi, ma esiste veramente il paese delle meraviglie. Se vi ho detto di andarci vuol dire che esiste. È proprio lo stesso posto di cui si parla in ogni parte. Ok, partiamo immediatamente alla ricerca della pietra. E allora buona fortuna, ragazzi. Doc Robain! Consula? Eh sì. Oh, che peccato, è andato via. Io ho paura che saremo puniti severamente per questo. Di certo il dottore non se ne dimenticherà. Temo che tu abbia ragione. Ah, no, no, mi dica questo! Do le mie dimissioni, mi licenzio. Me ne vado. Ehi, boiacchi. Ma non cerchi di trattenermi? No, no, non lo farò mica. Stavo solo pensando che se vuoi licenziarti, hai diritto al tuo stipendio e alla liquidazione. Non voglio rubare i tuoi soldi. Ah, e sta dicendo proprio sul serio, misdrogno? Ma è chiaro. Sarebbe meschino se dopo che tu hai lavorato così duramente per me non ti dessi quello che ti spetta. Ah, e sono davvero commosso. Però vorrei farti notare una cosa. Se tu restassi ancora un po', potresti guadagnare molti, molti più soldi. Invece così ton solo diventerà un miliardario, mentre tu vivrai in campagna con una moglie grassa e tanti marmocchi. Beh, questo è tutto, resta a te decidere. Ho deciso, ritiro la dimissione. Lavorerò duro per lei e per il resto della mia vita, se me lo permette, ecco. Sei sicuro? Non pensi alla mogliettina che ti aspetta. Ma quale moglie? La grossa campagnola? No, grazie, ci rinuncio proprio volentieri. Davvero? Allora posso mettere via questi soldi, no? Certo, io sono il suo futuro marito, cioè voglio dire il suo fedele servitore. Ok, basta così. Torno al lavoro! Credo proprio che andrò a vivere in campagna. Destinazione Paese delle Meraviglie, avanti! Agli ordini! Agli ordini! Dobbiamo andare anche noi. Ok. Iatta! 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 Ed eccoci nel paese delle meraviglie Cosa? Avete detto che non può esistere un posto del genere Certo che esiste Guardate nel ruscello Il buffo robot della banda drombo che scende a valle Cosa penserà l'ignara lavandaia? Oh, cosa sarà quella fata? Ehi, c'è una vecchia laggiù Oh, gli orchi Orchi? Non dirà mica sul serio, signora Non siamo tanto brutti Già Ad ogni modo conosce un ragazzo di nome Cantar Dovrebbe abitare qui Hai detto Cantar, è mio nipote Ah bene, ora dov'è? È andato sulla montagna a raccogliere lì Sulla montagna? Scusi, ci puoi spiegare dov'è? Credo che basti Ragazzi, che ne dite di riposarvi? Ne ho proprio bisogno Ci sono degli ospiti Che bello, sono felice che siate arrivati Avevamo finito l'intera scorta di cachi Cantar, se non ne mangio diventa debole come una pianta ormazzita Me ne basta uno per essere più forte di un leone Magnifico, proprio come braccio di ferro È così un bravo ragazzo Quando è forte fa lui tutti i lavori pesanti dentro casa Questo perché lui è nato da un cachi Come parentela è originale Come? Doc Rostone, non ne ho idea È una pietra scura di questa forma Ma forse si trova sull'isola degli orchi Ho sentito che è piena di tesori Quindi è pericoloso andarci Ma un giorno vedrete Farò fuori tutti gli orchi Sarebbe fantastico Se tu facessi piazza pulita di quelle bestiazze D'accordo Andiamoci tutti insieme Così non potranno farci del male Cosa vuoi fare in arrivo? Cosa? Ma che razzo di animale è? Aiuto! 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 Non mi sembrano per niente intelligenti Avanti cantarvali a prendere Non farmi male Aiuto! Ehi voi due non state lì Impalati a guardare il ragazzo che combatte Dategli una mano su Agli ordini! Aiuto! Guarda come vuoi un certo! Aiuto! Guarda come vuoi un certo! 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 Sento che questa volta Prenderemo la Doc Rostone Vi scongiuro siate clementi Risparmiate le nostre vite D'accordo Re Orco Ma ricorda che da oggi siamo noi Padroni di questa isola Per cui dovrai darci tutti i suoi tesori Lo farei volentieri Ma noi oro non ne abbiamo Non mentire! So che avete accumulato i tesori rubati agli esseri umani Questa è una sporca calunnia Noi non abbiamo mai derubato nessuno E per vivere contiamo solo sulle nostre forze Basta con queste sciocchezze Galdà forse è meglio che ci pensi tu Non sei d'accordo? Ora che ho mangiato i cachi mi sento in forza Penserò io a loro Ditemi dove avete nascosto i tesori Ma perché dici questo? È falso! Gli esseri umani non sono cattivi Invece sì! Hanno chiuso tutta la popolazione nel castello Però non devi avere paura di noi due Ehi qui c'è puzza di dronio Tutti lì! La mia mamma e il mio papà! Buono Orchino! Ce ne occuperemo noi! Ora che abbiamo messo sotto chiave questi mostriciattoli Possiamo cercare la pietra Perché ha così tanta fretta? Potremmo riposarci un po' È gradevole fare il sovrano! Sì credo che questo sia il mestiere adatto per me Volevo avvertirvi che sono appena giunti sull'isola Un ragazzo e una ragazza con il veicolo a forma di cane Come? Ma è Yattamen? Odio avere quei ragazzini sempre tra i piedi Uffa! Che? Sono arrivati dei nemici? Bene! Ci penso io! Ehi bandadrombo! Siamo qui! Abbiamo saputo che ne avete combinata una delle vostre Su muovetevi ladruncoli! Venite fuori! O avete paura? Bene arrivato Yattamen! Attenti a voi! Da dove spunta quel bambino? È proprio vergognoso che i due esseri umani difendano gli orchi Hai ragione cantarvi Bisogna punirli Fatevi sotto! Forza! Ma che stai facendo? Ferma! Ferma! Non lasciamoci sfuggire a quest'occasione Falle fuori voi Yattamen! Non puoi cantare con loro! Che? E allora che ce ne importa a noi? Perché mi guardate così voi due? Non ho chiesto la vostra opinione Andiamo nella macchina presto! Sì! Cattivi sono andato! Hanno raggiunto il robot! E insomma, vuoi smetterla? Stavolta la situazione è favorevole Approfittiamone Va bene, mi impegnerò al massimo Via! Attento a cantare! Yattakin, cerca di fermarli! Voyaki, togli queste armi di qui, potrebbero cadere Oh, mi sento un uomo ridicolo! Non è che ti senti, lo sei! Accidenti, che sfortuna! Uffa! Ma chi mi ha messo questa buca proprio qui? Se voglio risalire, forse è meglio che mangi un kaki! Oh no, non ne ho! Spero che Miss Droneo mi dia una mano! Ehi! Ma tu sei un orchino! Che cosa vuoi farmi? Oh! Non devi aver paura a cantare! Come mai sei venuto qui? Ti ho visto cadere! Ho pensato che tu avessi bisogno di aiuto! Davvero? Pensare che credevo che foste cattivi! Miltronio, ora sembra che cantarsi assieme agli orchi e ci capisce qualcosa! No, ma non ha importanza! Attacchiamo tutti! Bene, bomba multidirezionale! Ecco qui! Ehi, scagnozzi miei! Che cosa state combinando? Vabbè, così qualcuno colpiremo! Robby, è il momento del tonico! Il tonico è una fonte di energia che fa diventare Yattakinga più potente! Pensate che la sua forza è dieci volte quella di Yattakan! Pesa! Ce lo porto io! Oh, troppo facile! Sono scariche! Che disastro! E adesso che facciamo? Ti ho portato un kaki! Su, prendi! Grazie! Quel che ci voleva! Ha mangiato un kaki e adesso è contro di noi! Ed ecco la sorpresa della settimana! La storia è la storia è la storia di Yattakura! Oh no, guardate, laggiù c'è una riunione di pro di guerrieri Vabbè, sentiamo cosa ci predice la macchina Signori, ecco le predizioni per oggi Se agirete accortamente senza mai sbagliare mossa vi dirò Gioite gente, questo è il D della riscossa Con un colpo ben inflitto Yattaman verrà sconfitto È incredibile, dai boiacchi, questa è la volta buona Va bene, ecco l'arma segreta, via Siamo tre gemelli crudali Siamo tre gemelli aburriti E noi siamo due gemelli e mezzo Siamo pronti fratellini, comincia la battaglia Prendiamoli Alla Marta, ragazzi, la battaglia Alla Marta, ragazzi, la battaglia Alla Marta, ragazzi Avanti, avanti, avanti mi droga aiuto boiacchi a quanto pare l'oracolo si è sbagliato ma ci hai detto che vinceremo o dobbiamo vincere ti dirò una cosa io non ho mai creduto agli oracoli ecco qua, sulla spalla, un altro, un altro ancora, ecco qua, ecco, finito in orbito stupendo stupendo allora siamo pronti? ok Yatta Man! Yatta! 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 Yatta Man! Yatta King! uffa uffa c'è andato tutto storto anche questa volta e credo che non sarà nemmeno l'ultima non ho speranze, ormai vi tengo solo per la gioia di pulire date un po' un'occhiata dietro a voi è una coppia esatta della Doc Rostone che state cercando già è vero ma la Doc Rostone non può essere così grande, ciò vorrebbe dire che... era ancora un'informazione falsa ebbene sì, devo proprio ammettere che questa volta avete ragione e per questo non sarete pulire oh, ma dice sul serio dottor Doc Rubei certo, quando mai vi ho detto una bugia? bravo, evviva, evviva, lei è veramente eccezionale dottore e il misronio si è dimenticato che abbiamo cercato di scoprire il suo vero volto già è vero, bravo Poiacchi, non mi ricordavo che avete tentato di tradirmi stavo per dimenticare un ottimo motivo per pulire penso di demente perché glielo hai ricordato beh, ecco, vede dottore, era solo che volevamo sapere chi c'era dietro ad una voce così suadente e ben modulata con me non funzionano le adulazioni, musica! ah, aiuto, aiuto, che cosa ci sta? niente, non avere paura ho la netta impressione di essere su qualcosa di vicino, ecco ma questa è una piombra ah, no, no, mamma mia, no ancora, le faremo pagare tutto questo mie cara ammiratrice, aiutatemi mi dispiace moltissimo di avervi fatto passare dei guai ma l'importante è che alla fine siamo diventati amici già, non lo scorderò adesso coro al villaggio così potrò comunicare a tutti che gli orchi non sono affatto dei ladri mi prometti che ci verrai a trovare? certo E così nel villaggio di chissà, nato chissà come e che si trova chissà dove, hanno scoperto che gli orchi non sono cattivi. Beh, se lo dicono loro dobbiamo crederci. Arrivederci! Iatta! Iatta! Iatta men!